mock upgraded deep è tornato É TORNATO sebastiano è TORNATOS mamma mia il gioco per VR che aspettavamo tutti un vero survival ora devi prendere il casco capitano catamarano al vostro servizio Bellissimo Wow e c'è un granchio eh granchietto Presto verrò a cucinarti Ora comunque Andiamo avanti la nave E andiamo Ragazzi che gioco Mi trovo in un'isola e devo sopravvivere Con un dannato granchio che mi parla Oh cavolo Questo neanche si legge in piedi Allora è arrivata una cassa qui Aspetta 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 Non andartene Non andartene Ok 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 ora puoi andartene Brava brava e sparisci Ok devo trovare un modo per sopravvivere Allora ci troviamo proprio come su Strandedip in un'isola deserta Qua ci sono dei pesci e devo forse in qualche modo Catturarli Cosa potrei fare? Qua abbiamo una canna di bambù Amico Ok siccome vedete qua c'è la mia vita che sta per scendere Oh guardate qua Guardate qua Sì il cocco è tornato Signor cocco posso aprirlo Perfetto Yes Delizioso come me lo ricordavo Se vuoi il resto vieni qua Ok magari posso anche fare Roma con questo cocco Quindi in questa cesta metteremo tutte le cose utili e necessarie Anzi mi mangio anche questo Ottimo Ora vediamo se possiamo fare qualcosa con questa pietra Non è che Oh sì Grande Ho una lancia E ci è andato gabbiano Stai lontano C'è questo posto per un solo gabbiano qui Stai mi lontano Mamma mia se lo becco Mamma mia mi fanno una Un'ansia sti gabbiani Perché sono come quelli di Nemo Avete presente? Cattivissimi E allora prenderò queste rocce ragazzi Ora proviamo a cucinarci qualcosa Va bene Rimbocchiamoci le maniche Questa volta sarà diverso È cresciuta una canna di bambù Apriamo qua Ok Vediamo Questi li mettiamo qua Questo lo mettiamo nella scorta Questa volta le cose andranno meglio Ve lo posso assicurare Questa volta le scintille Ora Ok Ora questo lo mettiamo qui Anzi lo mettiamo un po' più vicino Bisogna fare le cose fatte per bene Ho capito Prima ho giocato con il fuoco E questo non va bene Eh? Dannato grancho grattasedeli Pa Eh? Ok Sì! Ok Oh guarda che bello Mamma mia posso mangiarmelo? Fammi provare Oh Mamma mia manco i ristoranti ste robe Buonissimo Ha recuperato un casino di vita Ottimo Ora facciamo un'altra cosa Ci andiamo a prendere uno di cocco O magari due Vieni qua Ok E questo cocco Ah no 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 Ok Non bruciare l'isola Non bruciare l'isola Vediamo se possiamo fare altre cose Posso unire il cocco Guarda ha unito il cocco Che cosa serve questo? Puoi spostare le cose Posso avere acqua? Magari posso usare il cocco per prendere altri cocchi Ah Sì! Guardate che presa Wow C'è un pesce d'oro Sì! Guardate È rarissimo Ragazzi ho trovato il pesce d'oro Grande Giove Posso un bel morire di fame Devo sbrigarmi Prendiamo uno di cocco Ok Siamo così Lo spacchiamo E lo mangiamo E ne prendiamo anche un altro Vieni qua Facciamo così Lo spacchiamo E lo mangiamo Ho tutta la faccia sporca di cocco Ah mi dà una cosa Aspetta Cosa mi dai? Guarda Mi ho regalato la sua chela No Poverino Mi ho regalato la sua chela Non è che posso usarla per crearmi qualcosa di fantastico? Mamma mia Guarda Mr.Crab Guarda l'ho preso Ottimo Grazie perché faccio un po' fatica in questa stanza A raccogliere le cose Ora abbiamo questo pezzo di legna E sapete cosa andiamo a farci? Andiamo delicatamente A cucinarci Quest'altro amico Sì! Chissà quanto ti recupera il pesce d'oro Spero tanto Perché guardate Sono messo malissimo Quindi per forza Pesce d'oro Ti prego Ehi è cotto Vediamo un po' Mamma mia Ora facciamo una super mega cena Voglio prendere tutti Tutti i pesci voglio prendermi 1,2,3 Ok mamma mia qua duriamo per giorni Mi serve ancora il pezzo di legna E basta uno Ok dobbiamo sbrigarci Ora siccome sto per morire è meglio che ci prendiamo anche un cocco Lo spacchiamo velocemente Lo mangiamo E con il resto ora prendiamo le due frutte Bisogna essere faste in questo gioco Bisogna essere molto abili Ok 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 No guardate ci sono i gabbiani di nebo Oh è pronto anche questo Che bello È stupendo Ah Ah Sapete cosa bisogna fare con i gabbiani Secondo me siccome hanno le piume Bisogna dargli fuoco Ok ok Va bene Vediamo qua c'è una nuova cesta ragazzi Vediamo che Guardate qua Un teschio Avevo una lente di ingrandimento Ma è caduta No Sta diventando hard ora Sta diventando molto hard Sta diventando hardissimo Oh cavolo Oh cavolo No guardate c'è un nuovo pesce Posso mangiare sto dannato cosa Sto per morire Vai Sto per morire Nooo Aspetta Dai Porco cane Dai Sono dieci minuti Sono sopravvissuto Oh ma c'è una papera gialla Cosa ci fa la papera gialla qui Perché Che è Non mi servirà qualcosa Come è vinto siamo Metti bene No 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 Ok Ci penso io Battere Incoming Qualche roba No 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 Se ne ritorna Avvertimi Non posso più vederli Ok Intanto prendo sto cocco Mi sfaga Miam Papera gialla Difendimi Papera gialla Ti difenderò Brava Ho bisogno di un pacchetto Ho bisogno di un pacchetto Amazon per fortuna Si è arrivato pure qua Ok Ok Due pietre E no Eh Bam 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 Yes Ok Eh Eh Cuciniamo sta roba E tanzo di impiedi Mi devi aiutare te Sei la mia unica fonte di calorie Di riserva No A posto Guardate Sono sei minuti Che sono a pieno cuore Stranded tipo Ormai mi ha insegnato Non posso prenderlo così Cocco Si Molto meglio Prendere Cazzo e ruola Voglio spaventare sto gabbiano No Pezzo di erba Mi ha rubato un'altra roba Me l'ha rubato di mano No Abbiamo finito la carta igienica ragazzi Spero che ci sia carta igienica No Solo un teschio Questa volta però Ce l'ho La lente di ingrandimento Non è che posso Unirla qui Si 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 Ok Aspetta Grazie mille Aspetta Ok ho un'idea Ho un'idea ragazzi Ho un'idea ragazzi Non è che Non è che posso fare così Facciamo così Questo lo mettiamo qua Non è che Lo posso cucinare con la lente di ingrandimento Si e vai Proprio così Dai che sto morendo di fame No Maledetto Velace Velace Mancava un secondo Ok Ok Vieni qua Ok Bene 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 così Bene così Porca bacca Ce l'abbiamo vista brutta Quel dannato schifoso Mi ha rubato la mia lancia Non c'è un problema Ne faccio una nuova No No Come faccio Sto morendo Non so come farà Non so Dai C'è il nuovo pesce Guarda Dai Ogni volta che arrivano i nuovi pesci Con gli avvolanti Muoio 10 minuti Ah Dannati capiani Sta zitto Avete capito Man mano che prosegue con il gioco Succedono cose diverse Poi arrivano anche gli squali Il problema È che è veramente Faticoso arrivare a quel punto Ma per questo episodio Mi fermo qua Se volete vedere un altro Dove magari Ci riprovo E Provo a vedere Cosa succede dopo Fatelo sapere nei commenti O magari vi lascio qualche screenshot E qualche video qua Nel frattempo Io vi saluto Spero che questo episodio Vi sia piaciuto E noi Ci vediamo Al prossimo Ciao ragazzi Minuta Structurali Quasi Monte